Il programma di Amadeus, chissà chi è, stenta a trovare ascolti su 9, registrando solo il 2,7% di share Un confronto netto con il successo di Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, che continua a superare il 25% Le difficoltà di 9 e il pubblico di Rai 1.Il calo degli ascolti di chissà chi è non sembra essere dovuto alla conduzione di Amadeus, ma piuttosto alle abitudini dei telespettatori di Rai 1, da cui proviene la maggior parte del suo pubblico L'audience di 9, infatti, è costituita da una nicca di telespettatori con gusti differenti rispetto a quelli della rete Rai La Warner Bros., proprietaria del canale, si aspettava di più in termini di audience, ma garantisce che non sono previste cancellazioni o spostamenti del programma Le riflessioni in corso riguardano piuttosto le possibili migliorie per adattare meglio il format alla rete Affari Tuoi e la sfida della corrida.Nel frattempo, Affari Tuoi con De Martino vola in alto negli ascolti, dando adito a rumors su strategie della Rai per mantenere alto l'interesse, compresa l'apparente anomalia dei pacchi più ricchi che rimangono fino alla fine A fine mese, Amadeus affronterà una nuova sfida, la conduzione della corrida in prima serata su 9 Un programma storico, ideato da Corrado, che metterà nuovamente alla prova il conduttore in un contesto diverso da quello di Rai 1 Amadeus verso nuove sfide.Nonostante le difficoltà iniziali, Amadeus resta sereno e concentrato, consapevole che l'adattamento a un nuovo canale e a un diverso pubblico richiede tempo La sua determinazione nel voler innovare e affrontare sfide televisive lo spinge a lavorare su miglioramenti che possano far crescere il programma La sua determinazione nel voler innovare e affrontare sfide televisive lo spinge a lavorare su miglioramenti che possano far crescere il programma